Vi racconto perché qui si mangia il cui, che è il porcellino d'India, ma mi nonna che stava in Umbria lo allevava e lo mangiava pure lei, lo mangiava la porchetta, era buonissimo, sembra un po' un sorcio, però mu vedete. Partiamo da dietro ed ecco finalmente il cui, voilà, il porcellino d'India è pronto. La pelle è come quella della porchetta, è sempre un porchetto, però è d'India. Adesso ci siamo, bisogna anche mangiarlo, lo prendo su così, fa un po' senso, ecco così è la parte, vedi, così si trasforma in un razzo missile, si divide perché è dividibile e c'ha anche i dentini e non so quelli da latte. E poi lo mangiamo. Buono, croccante, sa, boh, sa de sorcio. Come contorno questo mais gigante che si chiama mote, è strepitoso. Ci vengono dei pop cornoni enormi che vengono in tutti i lati delle strade.